Stiamo parlando principalmente dell'export del nostro sistema paese in Gran Bretagna, quindi un sistema che fattura 24 miliardi, la Gran Bretagna è il quarto partner per importanza per le nostre esplorazioni, dall'agroalimentare alla meccanica alla moda, per cui chiaramente il fatto di riunirsi in plenaria anche in un periodo non convenzionale non costituisce assolutamente un problema, anzi penso che vadano date delle risposte certe, poi chiaramente il fatto che l'incontro fra Boris Johnson e la Presidenta von der Leyen si terrà di presenza personalmente io lo interpreto come un buon segnale che vada nella direzione giusta, cioè nella direzione di fare tutto il possibile affinché un accordo venga trovato, anche perché ripeto la posta in palio è molto importante, poi soprattutto io voglio essere positivo sul tema Brexit, nel senso che mi piacerebbe che Brexit diventasse un'opportunità anche per gli stati che invece rimangono all'interno dell'Unione Europea, sarebbe anche bello se magari Bruxelles andasse incontro ad un bagno di umiltà, se c'è una riflessione su quanto non è andato nel rapporto con la Gran Bretagna e se arrivasse ad una governance più inclusiva e rispettosa nei prossimi anni, per cui chiaramente magari sto prendendo il libro dei sogni, però cerchiamo visto che Natale sia vicina di essere abbastanza positivi. Va concepito un sistema che faccia sì che da un lato ci sia la certezza giuridica, perché chiaramente le controversie bisogna essere in grado di compatibilmente con tutto, di prevederle, soprattutto di creare un sistema normativo che poi non vada a creare problemi al nostro sistema paese. Poi in secondo luogo è giusto che non ci siano delle discriminazioni sulle opportunità per quanto riguarda le aziende sia europee che britanniche di accedere ai rispettivi mercati, anche perché insomma abbiamo visto negli anni come le distorsioni hanno impattato negativamente sulle nostre aziende, poi chiaramente in fase specialmente di Covid, dove l'asticella delle difficoltà, c'è ulteriormente alzata, chiaramente bisognerà fare il possibile, e di questo ne sono consapevoli sia i negoziatori britannici che i negoziatori dello staff di Barnier, bisognerà fare il possibile affinché vengano costituite delle condizioni, affinché non ci siano problematiche le discriminazioni per le aziende. Grazie. 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 Grazie.